Terza vittoria consecutiva e la sensazione che il torneo di Serie B femminile siciliano di basket abbia già trovato la squadra da battere. La Rainbow Vie Grande Gruppo Altea Naviga ve le spiegate in questo inizio di stagione. Le ragazze allenate da coach Nini Gebi hanno allungato a tre serie di vittorie battendo il San Matteo a domicilio per 46 a 68. Vittoria dal peso specifico maggiore rispetto alle due precedenti con Stella, Palermo e SSD Unime. Perché Grillo e compagnie sono accreditate come le competitor principali delle vie grandesi lungo la stagione. La sfida della palestra comunale ritiro di Messina ha in parte confermato questa idea perché dopo l'avvio shock per le padrone di casa ritrovatesi svantaggio sul 4 a 16 a metà primo quarto. Queste ultime hanno saputo capitalizzare il blackout Rainbow palesatosi a cavallo tra la seconda metà della frazione e la prima metà della successiva. Arrivando almeno uno sul 19 a 20 con la tripla di polizi. Troppo poco però per stendere definitivamente le etnee trascinate dall'ossatura ucraina del gruppo che nella giornata in cui l'Italo-Argentina del Bosco cala di rendimento e legge a protagonista Jana Katerinczyk autrice di 23 punti personali letale da qualsiasi distanza. Viegrande scava il solco decisivo dopo un timeout a metà secondo parziale dopo il quale impone un break di 0 a 9 che taglia le gambe alle messinesi. Il 22 a 30 di metà match è solo il preambolo della fuga Rainbow che dopo un terzo tempo combattuto prende corpo nei primi istanti dell'ultimo quarto. Un successo che permette alla Rainbow di sarsi al primo posto in solitaria con sei punti in tre gare. In seguita da San Matteo, Gonzaga Basket, Rescifida Messina e Stella Basket, Palermo due lunghezze indietro. Con quest'ultima che regola con un netto 70-20 la Catane Basket attualmente a caccia dei primi punti stagionali.